Daemon più difficile Questo è il daemon più difficile Di geometri d'asce Non ve lo faccio vedere Guardate che difficoltà sto livello Questo è un daemon Difficilissimo Molto difficile Che bel daemon Che prove sono? Sono o non sono fortissimo Sono o non sono fortissimo Sono dio Occhio forte Occhio forte Occhio forte